La serenità di una classifica che dice che il peggio è alle spalle, la convinzione che l'ultimo segmento di campionato possa ancora riservare sorprese. Sono i sentimenti che animano il Foggia, atteso domenica sera dalla sfida interna con la capolista Juve Stabia, che precederà due trasferte di fila ed altrettanti potenziali scontri diretti per un posto ai play-off, rispettivamente sui campi del Messina e del Latina. Tre gare e 270 minuti in cui passa un'intera stagione. L'obiettivo degli spareggi promozione è in cima ai desideri di Oger e compagni, che ora più che mai strizzano l'occhio alla griglia che porta a giocarsi i play-off. La squadra di Cudini prosegue nella propria marcia di avvicinamento alla sfida contro la capolista. Da valutare sono le condizioni di Santaniello, uscito anzitempo dalla gara giocata domenica scorsa a Potenza col Sorrento. Cudini spera di averlo a disposizione. Nel frattempo l'allenatore marchigiano dovrebbe tornare a poter contare sul Rizzo, ormai pronto per tornare tra i convocati dopo un mese di stop. L'ultima apparizione in campo del jolly difensivo del Foggia risale al vittorioso derby di Brindisi. Cudini nel frattempo si gode le prestazioni di Moses Oger, il centrocampista ganese, e l'uomo in più della seconda fase di campionato. Dopo essere finito ai margini del gruppo, con prestazioni sontuose e ripetute, si è preso la scena, diventando una pedina inamovibile. Esperienza, quantità e intelligenza tattica al servizio di un Foggia, che sia pure a bassa voce, ha in testa un unico obiettivo, quello del raggiungimento degli spareggi promozione.